Bere questo prima di andare a dormire ti aiuterà a bruciare rapidamente in grasso addominale. Sapevi che puoi perdere in grasso addominale mentre dormi con una sola bevanda? Può essere difficile da credere, ma questa bevanda è molto facile da preparare e ha dimostrato di aiutare in breve tempo se la bevi regolarmente prima di andare a letto. Il tempo di sonno è un periodo considerato tempo di riposo. Eppure durante il sonno il nostro corpo continua a lavorare e mantenere importanti funzioni corporee. Se consumi questa bevanda stimolerà il tuo metabolismo, attiverà il processo di combustione dei grassi e perderà rapidamente in grasso addominale. Il primo ingrediente di questa ricetta è il limone. Il limone è estremamente ricco di vitamina C. La vitamina C conferisce al tuo corpo una serie di benefici, tra cui perdita di peso, protezione contro le carenze del sistema immunitario, malattie cardiovascolari, malattie degli occhi e rughe della pelle. Consumare il limone prima di andare a letto riduce i depositi di grasso nel corpo, con conseguente perdita di peso. Occupa anche spazio nello stomaco, facendoti sentire più pieno e impedendoti di fare quei viaggi di mezzanotte in cucina. Questo è anche perché il limone ha fibre di pectina. La fibra di pectina aiuta a controllare le voglie di cibo. Inoltre, consumare il limone prima di andare a letto ti aiuterà a svegliarti di buon umore. Gli ioni negativi presenti nei limoni aiutano a aumentare i livelli di energia e ti fanno sentire meglio. Ora preparare un limone di medie dimensioni e tagliarlo a metà. Quindi spremere il succo di limone in una tazza. Il prossimo ingrediente di questa ricetta è l'aceto di sidro di melle. Bere aceto di sidro di melle prima di andare a letto può aiutarti a bruciare il grasso addominale perché l'acido acetico nell'aceto può ridurre l'accumulo di grasso, sopprimere l'appetito, rallentare la digestione e aumentare il processo di combustione dei grassi. Potresti anche avere un sonno profondo quando bevi aceto di sidro di melle prima di andare a dormire. Non si può negare che la maggior parte di noi ha interrotto il sonno durante la notte e la mancanza di sonno può portare a aumento di peso e obesità. Ora aggiungere un cucchiaio di aceto di sidro di melle nella tazza. Successivamente è necessario preparare lo zenzero. Lo zenzero può aiutarti a bruciare più grassi perché è un alimento termogenico. Il suo consumo aumenta il funzionamento del metabolismo e quindi aumenta la combustione di calorie e l'eliminazione dei grassi. Ora preparare un pezzo di zenzero e grattugiarlo fino a avere mezzo cucchiaio di zenzero grattugiato. Versare lo zenzero nella tazza. Il prossimo ingrediente è in prezzemolo. Il prezzemolo allievi proprietà diuretiche e un alto contenuto di minerali e vitamine. Consumarlo allevia la ritenzione idrica e prende di mira il grasso accumulo nel tuo corpo. Inoltre l'altro contenuto di fibre del prezzemolo aiuta a pulire i rifiuti d'ancolone per una pancia più piatta. Supporta anche una perdita di peso più rapida eliminando le cellule adipose dal fegato riducendo così anche il rischio di malattia del fegato grasso. Ora preparare una manciata di prezzemolo e tritarlo. Mettere il prezzemolo tritato nella tazza. Successivamente è necessario preparare la pombra di cannella. Consumare cannella prima di andare a letto non solo aiuta a bruciare più grassi ma ti aiuta anche a dormire meglio. Rilasserà i muscoli stanchi, costruirà l'immunità, aumenterà il metabolismo e aiuterà la digestione dei cibi mangiati durante il giorno. Aggiungere mezzo cucchiaio di cannella in pombra nella tazza. Quindi aggiungere 200 ml di acqua tiepida nella tazza. Se lo si desidera è possibile aggiungere un cucchiaio di miele biologico per migliorare il sapore. La tua bevanda brucia grassi è pronta. Consumarlo un'ora prima di andare a letto e perdere rapidamente ingrasso addominale. Iscriviti al 99.000